salve a tutti amici e amiche l'argomento di oggi è stato proposto da aram benjo che qualche giorno fa mi scriveva aspetto con ansia un tuo video che descrive le differenze fra f22 ed f35 vantaggi e pregi di entrambi bene caro aram benjo che per chi se lo ricorda era l'eroe del cartone animato da itarn è stato un mito per una generazione nata e cresciuta fra gli anni 70 e 80 la cosa più strabiliante in ogni caso era l'assoluta nonchalance con cui apparentemente questo eroe se la intendeva con due donne diverse senza che come dire andassero in conflitto cioè riusciva pure ad andarci d'amore e d'accordo magari oggi siamo abituati a questo genere di inciuci ma per me che ero un bambino all'epoca era qualcosa di inaudito a parte gli scherzi il tema date proposto non è di così facile trattazione questi due aerei sono ampiamente secretati i sistemi le caratteristiche e i dati più importanti penso che ci vorranno molti decenni prima che vengano resi pubblici ma comunque vediamo di individuare le differenze macroscopiche e più evidenti come sempre cari amici prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra c'è il bottoncino per farlo e già che ci siete lasciate anche un mi piace che è importantissimo partiamo col dire che f22 ed f35 sono due aerei che nonostante vaghe somiglianze estetiche in realtà sono molto diversi senza contare che i loro sviluppi ed entrata in servizio sono separati da dieci anni di distanza l'f22 nacque per rispondere a una specifica prodotta dall'aviazione degli stati uniti per il programma denominato atf che sta per advanced tactical fighter le cui direttive presero piede a partire dagli anni 70 in cui ci si immaginava il caccia del futuro una macchina in grado di surclassare i caccia sovietici come il mig 29 e il su 27 che fra l'altro nascevano in quel periodo proprio come controparti dell'f15 e dell'f16 americano teoricamente almeno perché poi nonostante le prestazioni simili di questi aerei russi le avioni che poi resteranno sempre un po indietro nel 1981 il programma così emise le specifiche richieste questo nuovo aereo doveva avere una capacità una forte vocazione aria aria e anche capacità aria terra doveva avere bassa osservabilità e stealth decolli e atterraggi corti e super cruise cioè la capacità di volare in regime supersonico senza l'utilizzo dei post bruciatori il nuovo progetto che avrebbe portato all'f22 poi avrebbe dovuto adottare tecnologie emergenti come materiali compositi e leghe speciali avioniche avanzate e sistemi di controllo di volo fly by wire completamente computerizzati lockheed e northrop produssero due prototipi l'yf 22 e l'yf 23 il primo yf 22 essendo più vicino a una fase di sviluppo finita e con avioniche pronte oltre ad avere migliori caratteristiche di manovrabilità e per altre caratteristiche minori più importanti vinse la gara quindi le caratteristiche stealth poi vennero migliorate ulteriormente ed implementate con la riduzione e annegamento di tutte le sporgenze e spigoli con l'utilizzo di materiali speciali e leghe radar assorbenti e nella schermatura anche delle prese d'aria sia nella loro geometria come anche nel fatto di mascherare la traccia termica in sezione frontale i motori importantissimo elemento dello sviluppo dell'f 22 i motori f 119 p w 100 della pratt whitney avendo poi i due cunei posteriori che permettevano la spinta vettoriale si presentavano già schermati per la riduzione della traccia termica per chi conosce le dinamiche del combattimento aereo moderno e l'utilizzo dei radar è piuttosto ovvio che l'f 22 nasce come un aereo che ha un enorme riduzione della propria firma radar nella sezione frontale e non solo ci sono un sacco di tentativi di riduzione della traccia termica che sono un palese riferimento e risposta ai sensori passivi elettroottici adottati dai caccia russi in sostanza l'f 22 è quell'aereo che non vedi fino a quando è troppo tardi per dirla in parole povere le capacità poi di equipaggiarsi con 6 am am 120 c e d queste poi sono state versioni modificate con ali più piccole per poter entrare nella stiva interna dell'aeroplano questi missili ricevettero ulteriori upgrade anche nel sistema di guida e con migliori performance di gittata più poteva equipaggiarsi con due am 9x anche questi migliorati quindi diventero dei dei missili a corto raggio a guida infrarossa che per manovrabilità avevano prestazioni molto simili ai corrispettivi r73 russi l'avionica adottata dall f 22 era un radar a esa una nuova generazione di radar digitali che a differenza delle vecchie antenne analogiche a scansione meccanica aggiungeva capacità di formare più fasci elettromagnetici simultaneamente di utilizzare più frequenze in contemporanea e utilizzare le celle singole per ruoli diversi in contemporanea come per esempio la trasmissione dei dati per la scansione e il miglioramento in generale della definizione degli oggetti scansionati a proposito di questo radar è un discorso molto lungo e complesso ma per semplificare per fare un esempio pratico diciamo che la differenza fra un vecchio radar analogico e un nuovo sistema a esa è un po quella che c'è fra le vecchie fotocamere analogiche che facevano le fotografie di notte se ve le ricordate venivano fuori tutte queste immagini molto sgranate mentre un moderno radar a esa è paragonabile a una moderna reflex digitale che fa foto al buio praticamente in alta definizione non c'è paragone questa nuova generazione di radar fra le altre cose è molto resistente alle contromisure elettroniche e questo poi lo vedremo anche per l'f35 le sue celle possono poi essere utilizzate anche per lo scambio di dati ad alta velocità fra aerei e per la guerra elettronica l'f22 poi ha sistemi di difesa per il rilevamento del lancio dei missili un jammer per la guerra elettronica integrato che ha un raggio di 460 chilometri tre tipi di data link interni fra cui il famoso link 16 già utilizzato in tanti altri aerei delle forze nato compresi gli eurofighter e il jt ids che è un sistema integrato multipiattaforma di comunicazione all'interno delle forze aeree di terra e navali questa imponente avionica più combinata alla capacità stealth e dalle prestazioni esaltanti dell'aeroplano in termini di velocità accelerazione e manovrabilità ha reso l'f22 la punta di diamante dell'aviazione degli stati uniti ed è un aereo di fatto superiore anche all'f15 che era già molto molto performante di suo le parole dei piloti che lo hanno provato insomma la dicono lunga se a questo aggiungiamo altre cose che ha ereditato dalla filosofia degli f16 la fighter mafia come per esempio l'assenza di montanti nel tettuccio la proiezione dei dati e la capacità di acquisizione via casco tutte queste cose lo rendono un aereo estremamente valido e molto bello da pilotare almeno a detta dei piloti le prestazioni sono esaltanti capace di volare a mac 1,8 senza post bruciatore che è un dato assurdo e una velocità di punta di 2,25 mac con il post bruciatore con una tangenza operativa di 20 chilometri di quota e un fattore di carico di più 9 e meno 3 essendo specializzato poi nell'area aria come ho accennato può caricarsi fino a 8 missili ma può anche effettuare missioni aria terra come la siad antimissile anti sem e strike almeno limitatamente caricandosi con due j-dam e fino a 8 bombe più piccole da 100 kg sacrificando in parte le sue capacità stealth può comunque caricarsi con piloni su balari che possono aumentare la sua autonomia quindi conservatoi aggiuntivi oppure fino a 4 missili in più aria aria o missili come gli agm 88 per la siad o bombe a guida gps un aereo così straordinario non è stato ovviamente esente da critiche ecco magari oggi eviterei le critiche da bar dei noi altri ma essenzialmente negli stati uniti anche se i soldi ce li hanno comunque devono fare devono dare da conto ai contribuenti e se in italia oggi c'è gente che odia a morte gli f35 che costano 82 milioni a pezzo beh le f22 per un singolo esemplare chiave in mano ne costa quasi il doppio 150 milioni di dollari insomma è l'aereo caccia bombardiere più costoso della storia non a caso ne sono stati costruiti meno di 187 esemplari e se li sono fatti bastare per il fatto di avere le tecnologie più segrete e avanzate sul pianeta è stato poi impossibile pensare all'esportazione ma in ogni caso l'aereo poi è stato introdotto ai reparti operativi per il ruolo di controllo dello spazio aereo non solo sul suolo americano ma per esempio anche nelle basi americane in giappone dove si è visto spesso operare quindi finita la sviolinata vediamo neanche i difetti per quello che possiamo sapere quando si parla di invisibilità radar bisogna sfatare qualche diceria da giornalisti televisivi l'invisibilità non è il mantello di harry potter in un certo senso non esiste realmente se c'è un oggetto metallico che vola per quanto le sue forme siano studiate per evitare che le onde radar che lo investino investono scusate ritornino indietro qualcuna per forza di cose tornerà quindi è lo stesso vale per i materiali assorbenti di cui è fatto l'aereo non possono assorbire tutte le onde per questo motivo il termine più preciso quando si parla di aeristelt non è invisibilità ma riduzione della propria firma radar o cross section che sta a indicare la sezione radar equivalente l'ingegneria dietro questi studi fra le altre cose deve trovare sempre dei compromessi fra aerodinamicità e prestazioni voglio dire se vi ricordate un aereo come l'f 117 per ottenere la massima riduzione della firma radar di fatto resero quell'aereo un mattone molto difficile da volare lo stesso vale per il bombardiere b2 spirit che non è di certo pensato per mettersi a manovrare quando si parla di aerei come i caccia in sostanza gli sforzi per ottenere una riduzione della propria firma radar si concentrano principalmente nella sezione frontale per quelle onde radar che investirebbero l'aereo frontalmente in quegli angoli di aspetto che in gergo aeronautico vengono chiamati hot però ovviamente a questo bisogna aggiungere le superfici di controllo i motori le ali che devono rendere l'aeroplano quanto più manovrabile e agile possibile quindi possiamo dire due cose molto importanti a proposito di questi compromessi che la sezione frontale degli aeristelt americani è studiata per eludere altri radar aerotrasportati dei caccia pensata soprattutto per il combattimento aria aria dove questi radar operano su frequenze alte che servono proprio per definire gli aerei molto veloci che ti vengono incontro come ho detto quindi la capacità stealth dell'f-22 è molto efficace quando l'f-22 ti viene incontro quando è aggressivo il che lo rende un avversario estremamente pericoloso ed efficace nel tipo di combattimento aria aria moderno in cui si deve lanciare un missile pericoloso magari attivo come quelli di cui è equipaggiato ci sono tabelle e riferimenti però in generale così per darci un'idea così anche in linea di massima un su-27 può vedere con il proprio radar un f-16 a circa 40 chilometri 30 chilometri 35 chilometri ok se invece dovesse cercare un f-22 probabilmente riuscirebbe a vederlo nell'ordine dei 5 8 chilometri a quella distanza il su-27 sarebbe morto tipo minuti prima perché ovviamente no una in 120 lo puoi lanciare fino a 50 chilometri di distanza quindi la stessa stealthness poi comunque ha dei limiti insomma vale solo per la sezione frontale e quindi deteriora per tutti gli angoli diversi dalla sezione frontale per cui esiste una sorta di degradamento delle sue prestazioni quando l'aereo vira offre per esempio il dorso o la pancia o tutta la sezione di coda dove sono presenti gli elevatori e i grandi piani di coda che seppure inclinati proprio per ridurre l'eco di ritorno non sono comunque invisibili completamente esiste poi un altro limite dettato dal tipo di frequenze che investono l'aereo come ho accennato questa invisibilità è efficace contro onde ad alte frequenze tipiche dei radar doppler abiotrasportati ma il discorso cambia con le frequenze medie e nello spettro più basso che in genere vengono utilizzate dalle grandi antenne dei radar di scoperta posti a terra o per esempio le grosse antenne degli awax quindi detto in parole povere un aereo stealth può comunque essere visto da queste antenne seppure ad una definizione più bassa definizione che magari non permette l'aggancio il lock radar ma quantomeno può dare una sorta di immagine della sua presenza prendete quello che sto dicendo con le pinze perché stiamo parlando di singoli aerei e di esempi tecnici ma è chiaro che la guerra aerea non si svolge uno contro uno specialmente poi gli americani hanno una filosofia che accompagna a questi aerei un'imponente logistica alle missioni dove sono per esempio insieme ad awax aerei con disturbatori elettronici o che fanno proprio quel task di missione di disturbo elettronico oppure altri pacchetti che servono a distogliere l'attenzione e molto altro quindi è difficile estrapolare le caratteristiche stealth di un singolo aereo dal contesto in cui opera certo se prendiamo un su 27 contro un f 22 è chiaro che su 27 non ha scampo però per esempio un f 22 contro tutto un apparato di rete radar e data link anche di concezione russa di vecchia generazione può essere individuato quantomeno possono essere consapevoli della sua presenza in ogni caso la qualità costruttiva delle f 22 per chi ha l'occhio da esperto è piuttosto evidente anche i più sfegatati i sostenitori filorussi che cercano di valutare come il su 57 russo come il miglior aereo del mondo deve un attimino capire che c'è una differenza qualitativa fra questi aeroplani insomma no che si vede nei dettagli insomma il su 57 russo è vero che è il primo tentativo di un aereo con riduzione della propria firma radar da parte russa però è piuttosto lontano dagli standard americani ma vediamo allora l'f 35 allora non voglio entrare nel merito delle critiche che hanno coinvolto lo sviluppo dell'f 35 perché le avevo già trattate in un video che poi ho rimosso anche a causa dei commenti più assurdi che io abbia mai letto nel mio canale commenti del tipo è un bidone che si cappotta da solo cioè neanche fosse non so cos'era una classe a della mercedes qualche anno fa che non superava i test degli slalom qualcuno ha detto che non può volare nei fulmini va bene nessun aereo può volare in una tempesta di fulmini che da che esiste la l'aviazione qualcuno ha detto che fra i controlli di volo e il pilota c'è la differita ok non so cosa significhi che cos'è tipo un videogioco che c'è la lag qualcuno ha detto che è un cesso con le ali qualcuno ha detto l'ingegnere che lo ha costruito l'ha definito un bidone niente di vero ovviamente perché quel tizio fece una dichiarazione non era neanche non faceva neanche parte del progetto era tipo un opinionista televisivo e poi chi più ne ha più ne metta la bellezza di internet comunque è che è molto facile recuperare le informazioni sullo sviluppo dell'f35 e certamente ci sono state critiche ma ecco una cosa sono le critiche reali l'altra sono le idiozie ok quindi facciamo un attimo la distinzione partiamo col dire che l'f35 nasce da una specifica molto diversa da quella dell'f22 se l'f22 doveva sostituire l'f15 nel ruolo del caccia da superiorità aerea l'f35 invece nasce come un aereo per l'attacco al suolo in grado di sostituire tutta una serie di aeroplani in forze negli stati uniti e in europa come l'arrier il tornado la mx la 10 l'f18 l'f16 un aereo unico da attacco al suolo quindi con capacità aria aria anche ma soprattutto una piattaforma multi ruolo nelle tre varianti a decollo e atterraggio tradizionale la versione a la versione b per decolli corti e atterraggi verticali quindi specifica per sostituire l'arrier sulle piccole portaerei e la versione c per la marina degli stati uniti con un gancio dal resto proprio dedicata per le super portaerei americane la tecnologia stealth dell'f35 è una generazione più avanti rispetto a quella dell'f22 si presenta con geometrie più avanzate dimensioni minori e come dire le dimensioni quando si fa un aereo stealth contano perché più piccolo l'aereo più ha la radar cross section piccola quindi meno è visibile però questa cosa non ditela in casa su coi che evidentemente ancora non lo sanno a differenza dell'f22 poi il 35 utilizza nuovi materiali compositi è un rivestimento una sorta di pelle che serve per assorbire le onde radar questa pelle non c'è sull'f22 l'f22 si basa solo sui materiali e sulle vernici come per l'f22 poi valgono gli stessi principi legati all'invisibilità dobbiamo immaginarla come focalizzata a deludere i radar ad alta frequenza nella sezione frontale il 35 ha doti migliori dell'f22 in questo senso avendo una sezione più piccola prese d'aria più incassate che servono fra l'altro con quelle bombature a separare il flusso e rendere i motori più efficienti oltre a ridurre l'invisibilità frontale e in generale a meno superfici esposte quindi per gli angoli frontali è più invisibile dell'f22 ed è anche comprensibile perché è un progetto più nuovo che sfrutta anche le conoscenze pregresse dell'azienda e si porta più avanti la specializzazione dell'aereo poi come ho detto è l'aria terra quindi dobbiamo immaginare il suo ruolo sempre nel contesto in cui va a operare in sinergia con altri aeroplani ed assetti ne consegue una minore osservabilità radar che ha la funzione di farlo penetrare nello spazio aero nemico per distruggere essenzialmente le sue difese aeree e altri obiettivi al suolo sensibili cioè il suo ruolo non è quello di fare aria a muso duro come farebbe un f22 o un euro fighter le sue caratteristiche di volo e potete trovare voi stessi delle belle interviste interviste ai piloti che tra l'altro ce ne sono alcuni che hanno volato entrambi sia l'f22 che l'f35 lo descrivono come un buon aereo molto performante certo bisogna dire che no rispetto a un tornado a un harrier insomma a gli aeroplani che va a sostituire è più performante e si presenta più maneggevole più veloce ma chiaramente non è paragonabile a un f22 a causa del peso della sostiva interna della massa non proprio leggera come caratteristiche di volo è simile all'f16 ex quello con i serbatoi dorsali per intenderci quindi è un buon aereo non è un bidone certamente non è di certo paragonabile alle prestazioni esaltanti dell'f22 o un euro fighter che sono caccia intercettori o la superiorità aerea per definizione se l'invisibilità è uno dei suoi punti forti e le prestazioni sono buoni le cose più importanti dell'f35 sono l'avionica che rappresenta il meglio del meglio fra il vecchio mondo e il nuovo mondo la suite ha un'interfaccia definita glass cockpit con il pilota che può guardarsi attorno a 360 gradi grazie a telecamere posto in poste intorno all'aereo e al sensore principale elettroottico che si combina con il radar questi sensori generano una proiezione dei dati a terra e in aria con informazioni in tempo reale che il pilota può interrogare agganciare per una consapevolezza situazionale mai vista senza precedenti su nessun aeroplano da combattimento fino ad ora l'avionica del 35 è così avanzata che è stata la responsabile della continua levitazione dei costi e dei ritardi nello sviluppo delle sue tranche e non si tratta solo di visualizzazione per il pilota ma di sistemi per la guerra elettronica passivi e attivi in grado per esempio di generare impulsi selettivi in grado di annichilire per esempio una postazione a terra un radar missilistico o un radar aviotrasportato tutto questo mentre la piattaforma comunica con l'esterno e si coordina per poter operare nel contesto di interoperabilità con le altre forze di terra d'aria e di mare in sostanza l'f35 è l'aereo più avanzato in forze alla nato ed è operativo da 2015 in missioni all'estero e ha già visto il suo impiego in battaglia specialmente in medio oriente le critiche più importanti che gli sono state mosse hanno riguardato essenzialmente il furto dei dati quando era in fase di progetto questo furto di dati a detta di molti ha permesso alla cina di sviluppare il suo j20 il loro primo aereo stelta e i costi che sono lievitati continuamente quindi a livello politico quando è capitato per esempio il canada ha fatto tutta una campagna elettorale cercando di promuovere i suoi nuovi politici che promettevano di non acquistare gli f35 e questa campagna poi ha fatto il giro del mondo i politici sono stati eletti ovviamente poi non hanno tolto il l'ordine anzi hanno confermato l'ordine questo per dire no che i politici dicono una cosa e poi ne fanno un'altra però ecco per aggredire i costi lievitati delle f35 sono state inventate di tutte di tutti i colori certamente è vero che i costi sono lievitati e che non hanno rispettato i prerequisiti iniziali le tre versioni infatti seppure apparentemente simili condividono solo una piccola parte dei componenti di conseguenza sono aumentati i costi per quelli che alla fine sono tre aerei diversi che richiedono manutenzione tecnici e pezzi di ricambio di filiere diverse in ogni caso per smentire un po tutte le dicerie gli stati uniti sono il principale utilizzatore dell'f35 che ne ha ordinati 1763 esemplari e circa 400 di questi oggi che scrivo questo articolo sono attualmente in organico e poi ci sono tutti gli altri paesi la gran bretagna con 74 esemplari e l'aeronautica militare 60 f35 a più 22 che sono stati consegnati più 2 f35 b a settembre 2023 con il 32esimo storm ad amendola il tredicesimo gruppo operante che aveva il tornato prima e gli amx passeranno all'f35 a e all'f35 b il stesso stormo di gheri questo che operava con il tornado passerà all'f35 a e la marina militare con 15 f35 b ordinati e 5 consegnati a settembre 2023 con il gruppo aerei imbarcati di grottaglie che avrà solo f35 b e poi ci sono tanti altri paesi come per esempio i paesi bassi l'australia la norvegia la danimarca il canada israele belgio giappone corea del sud germania svizzera grecia emirati arabi e tanti altri sono i paesi che hanno ordinato ricevuto o sono in contrattazione per ottenerli questi numeri e questi paesi in sostanza credo che siano la prova più che sufficiente per dire che l'f35 non è un bidone e che è abbastanza stupido definirlo tale al di là dei costi elevati insomma se fosse stato un pessimo aereo gli stati uniti sarebbero stati i primi a non acquistarlo voglio dire avrebbero avuto un crollo delle vendite in ogni caso per quanto riguarda il futuro di questi due aeroplani che se non si è capito dal mio discorso non si possono paragonare più di tanto è abbastanza chiaro gli f22 continueranno a svolgere il loro ruolo primario di superiorità aerea seppure la loro produzione si è fermata e non è previsto l'acquisto di nuovi esemplari nel ruolo nel loro ruolo continueranno ad essere affiancati agli f15 per quanto riguarda l'aviazione degli stati uniti la marina sta introducendo progressivamente gli f35 b e c mentre il super hornet nelle versioni multiruolo e da guerra elettronica raggiungeranno la loro fine operativa nei prossimi anni presumibilmente nei prossimi 15 o 20 anni nel frattempo gli stati stanno già portando avanti il progetto ng ad che prevede l'introduzione di un caccia di nuova generazione paragonabile al tempest europeo da affiancarsi a tutta una classe di droni da combattimento aereo da usare come esche o piattaforme ausiliari e missilistiche che si integreranno agli attuali f35 i concetti della nuova guerra aerea moderna infatti a detta del ministero della difesa degli stati uniti sono che di portarti in volo con una ferrari non ti serve sempre no f35 un po visto come la ferrari non ti serve sempre quando devi fare una gara sporca hanno espresso questi concetti specialmente proprio in una guerra sporca come in un possibile scenario contro la cina piuttosto ti servirebbero tanti piccoli droni altrettanto veloci da usare come esche usa e getta e che potranno affiancarsi agli aerei più importanti che verranno pilotati e questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciatemi un mi piace volendo potete abbonarvi o fare una donazione adesso vi lascio che vado a piangere al commercialista per la dichiarazione dei redditi alla prossima grazie a tutti